la signora vanda al rapporto dal suo dietologo di fiducia mia cara le devo chiedere come mai in quest'ultimo anno invece di seguire i miei consigli ha preso ben 14 chilogrammi le avevo detto che pranzare con un antipasto di bruschetta due etti di pasta pomodoro e parmigiano cotoletta con patate sarebbe stato tutt'altro che salutare le avevo consigliato di fare attività fisica tre volte a settimana eliminare il pane e sostituirlo con 80 grammi di riso e verdure in grossa quantità è proprio vero che le persone non vogliono essere aiutate ma mi dica pensa di avere mangiato qualcosa di sbagliato per essersi ridotta così oggi la signora vanda perplessa risponde non sarà stato mica l'amido della pasta a gonfiarmi così tanto malessere